Nel modo de pensà c'è un gran divario. Mi padre è democratico cristiano e siccome è impiegato al Vaticano, tutte le sere recita il rosario. Dei tre fratelli, Gigi, che è il più anziano, è socialista rivoluzionario. Io invece sono monarchico, al contrario, deludovico che è repubblicano. Prima decena litigamo spesso per via desti principi benedetti. Chi va qua, chi va là, pare un congresso. Famo l'ira de Dio, ma appena mamma ci dice che so cotti gli spaghetti, semo tutti d'accordo nel programma. Grazie a tutti.